Buonasera, buonasera a voi. Noi abbiamo avuto modo in questi tre anni di parlare tantissimo di libertà, delle libertà che sono state tolte. Noi, e questo è abbastanza normale, abbiamo guardato soprattutto al nostro paese, quello che è avvenuto nel nostro paese, ma vi assicuro che questo lo abbiamo visto anche in tanti altri paesi, non dappertutto in verità, perché esiste ancora su questo, esistono ancora su questo pianeta dei paesi più democratici che non hanno privato i loro cittadini delle libertà, che non hanno costretto i loro cittadini a fare un qualcosa che non volevano fare per quanto riguarda il proprio corpo, cioè delle cure o l'assunzione di farmaci o in questo caso la somministrazione di un vaccino per il quale non erano d'accordo. E lo abbiamo visto quanto questo ha portato sofferenza nel nostro paese, dove ci sono dei lavoratori che sono stati privati di un diritto sancito dalla nostra Costituzione. E questo, ripeto, tutto e soprattutto per quanto riguarda un grande interesse economico da parte delle lobby farmaceutiche. E ancora adesso, che ormai è dimostrato dalla scienza che il loro disegno, la loro strategia, quello che loro ci dicevano era completamente errato, perché sono i fatti che hanno dimostrato che non avevano ragione, che l'unica strada da seguire era quella dei vaccini ma ce n'erano altri che avrebbero potuto salvare tante vite umane. Ora tutti quanti sono concordi nel dire che ad esempio gli antinfiammatori avrebbero evitato molte morti ed avrebbero anche evitato molte ospedalizzazioni. Ora, oggi è partito invece in Qatar il campionato del mondo di calcio. Altra grande industria a livello mondiale, vi ricordo che in Italia l'industria del calcio è la quarta industria nazionale per quanto riguarda il PIL, ma in generale in tutto il mondo è un grandissimo business e malgrado la richiesta, la pressione di moltissimi paesi affinché fosse tolta l'organizzazione di questo mondiale al Qatar che non rispetta i più elementari diritti degli esseri umani e soprattutto i diritti delle donne. E' ancora peggio il fatto di non aver voluto estromettere da questo mondiale l'Iran perché ne fa parte incredibilmente anche l'Iran e noi sappiamo che in questo momento siamo vicini ad una guerra civile perché questo Stato, l'Iran attraverso il proprio governo è stata la causa della perdita della vita di tante donne che non avevano accettato di sottostare alle leggi di quel governo, non si erano sottomesse a quella che era la volontà del governo iraniano e ugualmente in protesta erano scese e sono scese e continuano a scendere nelle strade e sono state uccise, sono stati uccisi anche uomini che accanto alle donne hanno protestato. Tutto questo per non voler seguire una tradizione di coprire il proprio volto per quanto riguarda le donne, infatti il fatto scatenante che è stata uccisa una giovane ragazza proprio per questo motivo e da lì si è scatenata la rivolta ma ripeto un fatto di una tale gravità non è stato sufficiente per i vertici del calcio per estromettere quel paese però però hanno estromesso da tutte le attività sportive invece i giocatori e le squadre russe capite che questo è inaccettabile ancora una volta due pesi e due misure ma la misura è solamente quella del guadagno dell'arricchimento delle lobby mondiali e noi dobbiamo iniziare però a fare delle battaglie contro queste lobby ma non più andare semplicemente a protestare nelle piazze ma davanti a queste grande aziende davanti anche l'azienda dell'informazione perché sono delle vere e proprie aziende che influiscono sulle nostre scelte sulle scelte dei giovani quindi facciamo attenzione non sottovalutiamo questi aspetti non sottovalutiamo quello che succede nel mondo del calcio perché ripeto è un'industria molto molto potente e quello che sta avvenendo in questi giorni in Qatar è totalmente inaccettabile con questo vi lascio vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani